Dalla collana Mitologia per bambini, Ulisse e Mostri Marini, casa editrice a scelta. Benvenuto nel magico mondo dei miti, io sono Clio, la musa della storia, e sarò la tua guida in questo viaggio pieno di emozionanti avventure. Ulisse e i suoi uomini navigavano ormai da più di dieci anni per il Mediterraneo, diretti verso Itaca. Il loro si era trasformato in un viaggio interminabile, in cui avevano dovuto affrontare ogni tipo di pericolo. Frutti velenosi, mostri, giganti cannibali, maghe, che sapevano compiere terribili incantelli. Per fortuna questa volta potevano contare su qualche indizio a proposito di ciò che gli aspettava. Nella sua ultima avventura, Ulisse aveva infatti conosciuto la maga Circe e l'indovina Tiresia, che lo avevano avvertito su delle terribili creature marine. Sarebbero riusciti a salvarsi da questo nuovo pericolo? Dopo aver abbandonato l'isola di Circe, Ulisse e i suoi uomini avevano fatto rossa verso il sud. Dopo qualche giorno di navigazione, avvistarono a babbordo un'isola paradisiaca, circondata da acque cristalline. Ma gli uomini di Ulisse si insospettirono. Quel luogo era così perfetto, era così stranamente tranquillo. — Capitano, non sarà per caso l'isola delle terribili sirene? — Magari, rispose Ulisse entusiasta, mi piacerebbe molto ascoltare il loro canto. Dicono che non esista al mondo una musica più ammaliante. «Non pensarci nemmeno, Ulisse!» Dicono che i marinai che le hanno udite cantare siano stati incantati dalle loro voci, tanto da non poter evitare di dirigere le loro navi contro gli scogli dell'isola. Una volta naufragati, le sirene ne hanno approfittato per divorarli. Ulisse conosceva alla perfezione queste storie sulle sirene. Ma ancora una volta, la sua curiosità ebbe la meglio. Perciò, invece di rinunciare al suo desiderio, ideò uno stratagemma per poter diventare l'unico mortale a sopravvivere agli incanti delle sirene. «Ho un'idea!» Avvicinate la nave all'isola. Ma prima legatemi all'albero maestro con queste corde. «Anche se il canto delle sirene dovesse stordirmi, non potrò fare alcuna sciocchezza, perché sarò bloccato. E noi che faremo?» domandarono i suoi compagni. «Le sirene ci incanteranno con le loro voci, se le ascolteremo. Esiste un modo per non farvele udire. Io stesso vi tapperò le orecchie con la cera», proseguì. «Non sentirete né loro e né me. Potrete navigare tranquilli». «Come desideri, Ulisse!» I marinai obbedirono al capitano e dopo averlo legato per bene, escero rossa verso l'isola. Come si poteva prevedere, le sirene si misero a cantare non appena videro le navi avvicinarsi. «Vieni, o amato marinaio, avvicinati alla nostra isola!» intonavano con una voce irresistibile, molto più belle di quanto Ulisse avrebbe mai potuto immaginare. Disperato, cercò in tutti i modi di liberarsi dalle corde che lo tenevano legato all'albero. «Oh, come mi sbagliavo! Liberatemi!» gridava i suoi uomini. «Slegatemi immediatamente! Voglio raggiungere le sirene!» Ma i marinai non potevano sentirlo e continuavano a remare senza prestare attenzioni, come Ulisse aveva ordinato. Anzi, il solo che gli si avvicinò lo fece per assicurarsi e le corde che lo legavano fossero ben salde. Le grida di Ulisse erano talmente pietose che chiunque lo avesse udito sarebbe corso immediatamente in suo aiuto. Per fortuna aveva messo talmente tanta cera nelle orecchie dei suoi compagni e questi non udirono proprio niente e così dopo un po' di tempo e con un po' di pazienza si lasciarono alle spalle l'isola e le sue terribili abitanti. «Capitano, siamo salvi!» gli dissero mentre lo liberavano dalle corde e si stappavano le orecchie. «Sapeste quanto era bello il suo canto!» «Che cosa non avrei dato per poterla ascoltare un'altra volta?» disse prima di cadere sul ponte come un peso morto. Aveva esaurito tutte le sue forze gridando come un matto. Ulisse non ebbe però il tempo di riposarsi. la nave si era appena allontanato dall'isola delle sirene quando un'ondata impetuosa la sollevò. In pochi istanti il mare si fece grosso gonfiato da un vento di tempesta. L'equipaggio corse ad ammenare le vele affinché l'uragano non distruggesse l'albero. Stavano per entrare nello stretto che separava i mostri di Scilla e Carritti. Da un lato c'era Scilla una roccia dalla forma di donna da cui fuoriuscivano teste di cane che divoravano tutto ciò che capitava loro a tiro. Dall'altro si trovava Carritti un vortice capace di inghiottire navi intere e di farle sparire nelle profondità del mare. In mezzo una strettissima striscia di mare. Ulisse ricordò allora le parole della magacirce che gli aveva predetto che avrebbe affrontato i terribili mostri. Non temete marinai incoraggiò il suo uomo vogliono solo spaventarci remate più forte supereremo anche questo. Le fauci di Scilla ruggevano come draghi che paura capitano ti mangerà gridarono terrorizzati alcuni uomini. Ulisse aspettò di essere più vicino al mostro poi prese la lancia e si preparò all'attacco se fosse riuscito a colpire una delle teste di Scilla e a stordirla avrebbe avuto il tempo necessario per attraversare lo stretto senza avvicinarsi a Cariddi. Si è parlato di paura avvicinatemi a quel mostro affinché possa darle una bella lezione ordinò tuttavia il piano non andò esattamente come Ulisse aveva pensato sebbene Scilla avesse ricevuto un duro colpo e fosse rimasta assordita per qualche istante la corrente continuava ad essere molto forte e sei uomini caddero in acqua. Cariddi l'inghiottì nel suo gorgo e li portò nelle profondità del mare. No! Ulisse era triste e sconfortato aveva perso altri sei uomini ed era sul punto di rimanere solo. Attraversare lo stretto di Scilla e Cariddi era stato uno dei momenti peggiori del suo lungo viaggio però poco dopo essersi lasciati alle spalle quei terribili mostri i marinai avvistarono l'isola di Trinacria. Non dobbiamo perdere la concentrazione passeremo a largo disse Ulisse sicuro di sé. Perché non ci fermiamo? Si lamentarono i suoi uomini ci farebbe bene un po' di riposo. Va bene accontentì Ulisse contro voglia attaccheremo domani mattina ma dovete assolutamente ubbidire i miei ordini. Sapete che cosa preoccupava il nostro eroe? L'indovina Tiresia gli aveva detto che su quell'isola pascolavano i buoi del dio Elio animali bellissimi molto appetitosi e protetti dagli dei che non dovevano essere molestati nessun modo. Allo spuntare del sole come d'accordi Ulisse e i suoi uomini sbarcarono sull'isola di Trinacria. Prima di attraccare la nave il re di Itaca si rivolse ai suoi uomini. Vi chiedo solo una cosa disse il capitano molto serio. Tutto quello che desideri Ulisse non vi avvicinate per nessun motivo al mondo ai buoi di Elio gli avvertì. Se qualcuno di noi dovesse semplicemente toccarli gli dei si infurieranno e ce la faranno pagare molto cara. È chiaro? l'equipaggio annui senza dare troppa importanza all'ammonimento del loro capitano. Credevano che fosse una promessa semplice da mantenere. Alla fine avevano ancora provviste e non avevano necessità di cacciare. Tuttavia forse non sarebbe stato tanto semplice. Tutti sappiamo che quando si proibiscono una cosa questa risulta doppiamente allettante. Non è così? Riposare sulla terra ferma per qualche giorno fu meraviglioso. Dormirono come ghiri. Il quinto giorno avevano recuperato tutte le forze ed erano pronti per riprendere il viaggio di ritorno a Itaca così smantellarono l'accampamento e si intamminarono verso la nave ma proprio quel giorno i venti girarono e iniziarono a soffiare nella direzione opposta alla loro russa. Che sfortuna! Attesero un giorno e poi un altro e poi altri due e i cinque seguenti attesero tanti giorni che le provviste iniziarono a starseggiare per quanto avessero razionato ciò che restava e non fossero riusciti a partire quanto prima il cibo sarebbe finito. Che potevano fare? Sisterato Ulisse decise di addentrarsi nel bosco dell'isola per pregare gli temi. Forse mi ascolteranno e ci aiuteranno pensò. Gli altri si guardarono intorno non lontano dall'accampamento pascolavano i magnifici buoi di Elio. Se ne catturassimo uno hanno un bellissimo aspetto disse uno. Il capitano ce l'ha proibito rispose un altro a denti stretti. E' da giorni che il mio stomaco si lamenta sentite come brontola ho moltissima fame aggiunse un altro ma non dovremmo. Prima che questo avesse finito la frase gli altri si erano già messi marcia in direzione della mandria. Scelsero uno di voi lo puntarono con un paio di frecce e zac colpito e catturato. Procurarsi quelle bestie fu più facile di quanto avessero immaginato. Beh proprio non si direbbe che siano protetti dagli dèi se uno tra le risate lo portarono all'accampamento accesero il fuoco ed un batter d'occhio il bue era pronto per essere gustato. Dalle espressioni di piacere ti sarebbe detto che fosse la carne più squisita del mondo. Visto non è successo niente disse uno se gli dèi si fossero arrabbiati ormai lo sapremmo con un po' di fortuna nemmeno il capitano si accorgerà che abbiamo mangiato questa carne aggiunse l'altro ma quando Ulisse percepì l'odore della carne arrostita tornò immediatamente all'accampamento stolti non avevano obbedito ai suoi ordini bisognava abbandonare immediatamente l'isola e sperare che gli dèi non si accorgessero di nulla ma gli dèi vedono e sanno tutto ed è impossibile sfuggire dal loro potere quando salirono a bordo i marinai iniziarono a remare controcorrente con tutte le loro forze Ulisse dirigeva le manovre deciso e spaventato allo stesso tempo non era sicuro che gli dèi sarebbero passati sopra a ciò che i suoi uomini avevano fatto e infatti la loro vendetta non tardò Zefiro il dio del vento si accorse di quanto era accaduto e prese di mira la nave di Ulisse una violenta raffica battè la vela maestra in un attimo l'equipaggio perse il controllo della nave ed affondò quando i venti calarono fra i relitti del naufragio si vide un pezzo di legno a cui era grappato un uomo era Ulisse il re di Itaca triste e sconsolato si rammaricò per aver attraccato sull'isola di Trinacria ma ormai non si poteva tornare indietro da quel momento avrebbe dovuto continuare il suo viaggio da solo senza la compagnia né l'aiuto di nessuno voce narrante la maestra Fuffi grazie a tutti